Ciao bimbi, bentornati a giocare con noi. Oggi, con l'aiuto di una magica bambina, che è mia figlia, vi farò vedere un gioco che facciamo spesso all'asilo, così potete farlo anche voi con mamma e papà. Mi raccomando, divertitevi, noi lo stiamo facendo fuori in giardino, ma si può fare anche a casa, dentro le mure di casa, nel vostro salotto, nella vostra cucina, nella vostra cameretta. Mi raccomando, è arrivati in fretta al castello della regina. Un bacio grande! Regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello così bello e così grande? Tre passi da elefante! Reginella, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello così bello e così grande? Due passi da formica. Reginella, 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 quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello così bello e così grande? Quattro passi da gallina. Cacate, 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 cacate. Wow, sei arrivata! Ora sei tu la regina! Grazie a tutti